La devastante alluvione che ha colpito nei giorni scorsi l'Emilia-Romagna, oltre che un tragico bilancio di vite umane e incalcolabili danni materiali, sta mettendo in pericolo anche la biodiversità della zona. A lanciare l'allarme è stata la Call di Retti, in occasione della giornata mondiale della biodiversità celebrata il 22 maggio. L'Associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana ha sottolineato come intere produzioni siano state cancellate, dopo che gli agricoltori erano riusciti in questi anni a salvarle dall'estinzione. In pericolo, tra le altre, l'albicocca di Imola, la fragola di Romagna, il grano senatore Cappel, la ciliegia di Cesena e il maiale Mora Romagnola. In Romagna l'alluvione ha devastato oltre 5.000 aziende agricole e allevamenti in una delle aree più coltivate del paese, con una produzione lordavendibile di circa un miliardo e mezzo di euro.